Dopo il grande successo ottenuto in Emilia Romagna ma anche a Bologna per le europee, com'è cambiato, se è cambiato il rapporto con Renzi? Renzi è il segretario del partito e del presidente del Consiglio e noi sosteniamo lealmente e convintamente il suo lavoro. Penso anche che lui abbia convinto tanti italiani del suo modo di fare politica e questo ha dato un grande ossigeno al Partito Democratico e noi siamo il PD, quindi ovviamente siamo soddisfatti di questo risultato elettorale, soddisfatti anche della leadership abbastanza forte che abbiamo ora, dobbiamo utilizzarla per cambiare il paese, non per guardarci al nostro interno. Se dovesse dare un giudizio sull'operato del sindaco, sinceramente cosa direbbe? Abbiamo discusso tre volte in quattro anni in data da Dio perché a Bologna non è mai successo che ci fosse un rapporto così collaborativo, proficuo e leale di sostegno reciproco direi tra sindaco e segretario del partito. È il nostro sindaco, l'abbiamo voluto, io penso che stia lavorando bene. Per migliorare Bologna e il PD che cosa dovrebbe fare? Bella domanda. Il Partito Democratico è il partito che in città ha ottenuto il 54% dei consensi, quindi ha una grandissima responsabilità. Deve sostenere l'amministrazione che è espressione innanzitutto del Partito Democratico. Per il posterrani come vi state organizzando? Ci saranno le primarie. Per quello che mi riguarda, essendo io il segretario di Bologna, sono anche molto interessato a discutere della centralità del territorio bolognese. Progetti personali? La vedremo candidato? Come? Ho sempre lavorato in squadra, remato per la squadra. Questo forse è il mio lavoro. Questo forse è il mio lavoro.